Balli, canti, testimonianze. È stato ancora una volta l'entusiasmo della fede a fare da sfondo all'incontro tra il pontefice e i giovani, questa volta nel santuario di Solmoe. Ai ragazzi dell'Asia Papa Francesco ha chiesto di andare per le strade del mondo e diffondere la luce del Vangelo perché la parola di Gesù ha il potere di toccare ogni cuore e di vincere il male con il bene. Pur nelle difficoltà infatti non bisogna cedere alle delusioni, sopraffatti dall'impressione che i semi di bene e di speranza che cerchiamo di seminare siano soffocati dai rovi dell'egoismo, dell'ostilità e dell'ingiustizia. Davanti al deserto spirituale che sembra propagarsi in tutto il mondo Papa Francesco ha ricordato che Dio bussa ogni giorno alla porta del nostro cuore chiedendoci di risplendere nella testimonianza. A tutti i giovani presenti il pontefice ha dato quindi tre suggerimenti concreti per essere testimoni autentici e gioiosi, fare affidamento sulla forza che Cristo dona, restare vicini al Signore con la preghiera di ogni giorno e lasciare che parole e azioni siano sempre guidati dalla saggezza della parola di Cristo e dalla forza della sua verità. Lui ha concluso, vi insegnerà a valutare bene ogni cosa e a conoscere ogni giorno il suo progetto per voi.